Ciao a tutti. Benvenuti sul nostro canale. Oggi entriamo nel vortice delle emozioni del grande fratello. Con uno scoop che ha scosso la casa. Le rivelazioni esplosive di Anita Olivieri su Massimiliano Varrese. Nella puntata di ieri sera, Varrese è stato al centro dell'attenzione. Con molte voci che insinuano che il suo comportamento potrebbe essere una recitazione strategica. Alcuni coinquilini, tra cui Letizia Petris, Rosy Cinn e persino Fiordaliso, hanno espresso dubbi sulla sua autenticità. Ma la vera bomba è arrivata da Anita Olivieri, che subito dopo la diretta si è confidata con Vittorio Menozzi. Anita ha svelato alcune conversazioni avute con Massimiliano. Smascherando presunte strategie di flerto orchestrati. Ha rivelato che Varrese, la sera prima della settimana in cui avrebbe provato con lei, ha dichiarato a Rosy Cinn di annoiarsi e di voler creare confusione. Olivieri ha rincarato la dose. Affermando che Varrese le avrebbe detto alle 5 del mattino. Ora ci provo con te. Ora inizio a provarci con te perché mi sto annoiando. Le sue rivelazioni gettano una nuova luce sui comportamenti di Varrese e sollevano domande sulla sincerità delle sue azioni. Che cosa ne pensate di questa svolta nella storia del grande fratello? Commentate qui sotto e fatelo sapere. E se siete nuovi qui, non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento sulle ultime notizie del grande fratello e dello spettacolo. A presto!